Se hai seguito questo progetto fin dall'inizio, spiegaci e raccontaci. Allora, come diceva il Presidente, questo è un progetto che nasce dalle esigenze che questa federazione ha avuto negli anni. Ci siamo mossi nell'idea di poter dare a tutti i nostri affiliati, perché ricordiamo che negli anni ne abbiamo potuto seguire, parlo come linea di abbigliamento, prettamente i nostri atleti, quindi che rappresenta solamente una parte di tutto il mondo FIB in Italia. Noi come federazione nell'anno scorso eravamo 118-119 mila tesserati, quindi la possibilità, anche perché, ripeto, venivano fuori da richieste che il tesserato ci faceva, quello di avere anche la possibilità di acquistare o comunque di avere un capo della federazione. È nato dal fatto anche che, come diceva il Presidente, ci siamo legati a un'idea dei suoi giovani, un'idea che segue dal marchio, assolutamente più giovanile, più fresco, come diceva appunto Carlo, ma anche l'idea soprattutto di investire sui giovani e lo abbiamo pensato anche nella linea di abbigliamento. In abbigliamento abbiamo voluto proprio scegliere un produttore che ci ha seguito sin dall'inizio, facendo sicuramente dei grandi sforzi e lo abbiamo voluto scegliere sostanzialmente non in un marchio già connaturato, da un marchio che potesse crescere con noi. Questo perché potesse essere una crescita insieme, cioè, della federazione in questo senso, ma anche di chi collabora e ci segue in questo percorso. L'abbigliamento lo renderemo disponibile in e-commerce dal 6 di agosto, quindi sul nostro sito saranno disponibili, saranno disponibili, saranno disponibili, sono disponibili e abbiamo pensato anche di avvicinarci soprattutto a quel mondo che noi un pochino ricerchiamo sempre, tutti i giorni, ma che poi forse non sembriamo molto, che è quello proprio dell'iniziazione dell'avvicinamento alla scuola. Abbiamo pensato anche dando proprio un kit scuola che comprende, non so adesso che poi ci saranno le immagini, praticamente una polo, una t-shirt, un cappellino, un sacchetto. Ma questo non è tanto per l'oggetto in 6% ma per connaturare quello che sono le nostre scuole Vela, per dare il sentimento distintivo di una scuola Vela Fibri rispetto anche ad altre scuole.